Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi è arrivato il momento del wrap up, ovvero vi racconto tutte le mie ultime letture e questo mese, non so bene come c'è, lo so e dopo ve lo spiegherò, ho letto un sacco e quindi, insomma, parliamone perché sarà un video molto lungo, i miei wrap up sono insomma una sorta di recensioni tutte molto condensate quindi insomma abbiate pazienza e niente, nel mese di aprile ho letto veramente uno sfaccello di libri vuoi perché in mezzo ci sono state anche le vacanze di Pasqua, 25 aprile e il ponte e quindi, insomma, ho letto un casino, ho letto addirittura 10 libri che per me è una quantità che non raggiungo mai perché è una cosa folle insomma e quindi parliamone insieme perché ho davvero un sacco di cose da dire sarà un wrap up lunghissimo, mettetevela via, se volete seguire vi racconto tutte le letture che ho fatto come sempre vi ricordo che se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati e se volete sostenermi perché quello che faccio vi piace fondamentalmente, giù trovate il mio link di affiliazione ad Amazon che se acquistate tramite i miei link, io ne riceverò una piccola percentuale che mi aiuterà a sostenere il canale e in più c'è il mio link a Ko-fi se volete donarmi un caffè per bontà d'animo e giù ancora tutti i miei link ai social, basta spazio promo, non lo facevo, da un po' lo dovevo fare detto ciò partiamo dai libri, parto dagli audiobooks perché questo mese mi sono iscritta a Script che fino ad ora rimane a mio parere, ovviamente mio personalissimo parere, il servizio di audiobooks più completo e interessante che esista non esistono libri in italiano quindi si riferisce solamente a delle uscite in inglese e non solo forse c'è anche qualcosina in francese e in tedesco però non vorrei dirvi delle sciocchezze però insomma io l'ho trovato per ora il servizio più completo per tre motivi principali il primo che è aggiornatissimo, ha una libreria veramente vastissima, soprattutto ricca di novità cosa che tutti gli altri servizi di audiolibri sempre un po' inciampano su questo tema qua in più è molto molto ricco di fantasy, fantasy, fantascienza, letteratura per ragazzi ce n'è una quantità incredibile, cosa che ovviamente negli altri servizi manca in maniera proprio abbondante anzi ero quasi imbarazzata per gli altri servizi non ti mette a disposizione solo gli audiobooks quindi non solo la parte di ascolto ma è una libreria vastissima di audiolibri oltre a costare la metà di tutti gli altri servizi fine dello spazio promo che questo è totalmente non richiesto io non collaboro con script ma sono entusiasta di questo servizio ed essendo un buon servizio ve ne parlo se avete un livello di lingua molto fluente io ve lo consiglio a bomba e quindi questo mese ho ascoltato tre audiolibri prevalentemente poi ne sto ascoltando altri ma alcuni perdo interesse vabbè comunque non siamo qua a parlare di quello in ogni caso il primo audiolibro che ho ascoltato è stato un libro che io attendevo da un sacco ovvero Daisy Jones and Six di Taylor Jenkins Reid e questo è uno di quei libri che io avrei voluto prendere e lanciare fuori dalla finestra un libro che tutti hanno amato, tutti osannano, tutti non so stravedono per questo libro io non me lo spiego cioè mi sembra totalmente ingiusto che sia così osannato allora come sempre io non vi dirò le trame perché io confido nella vostra capacità di fare ricerca su Goodreads so che siete capaci di digitare sulla tastiera quindi non perdiamo tempo che cosa fondamentalmente voleva significare questo libro racconta la storia di Daisy Jones e della sua band cioè dei The Six e della loro scalata al successo fondamentalmente cioè è stato un libro carino, è stato un libro divertente perché lo è se vi piacciono inedotti musicali lo è, non è un libro così pessimo cioè anzi io gli ho dato tre stelline ma la sensazione è stata esattamente quella di leggere un documentario musicale che è un'esperienza già di per sé strana nel senso che cioè io di documentari musicali ne ho visti beh di libri sulla musica ne ho letti una quantità spropositata perché è la mia passione principale ma questo esattamente è stato quello, nulla di originale tutto molto banale e non so una storia anche vista, rivista, letta e già riletta cioè questo libro fondamentalmente è risultato a mio parere la trascrizione di un qualsiasi biopic musicale su una band degli anni 70 dove già ne esistono una quantità spropositata sesso, droga, rock and roll e le difficoltà che hanno le donne nella musica che io non voglio sminuire perché secondo me le donne nella musica hanno delle barriere ancora da battere per colpa di chi ha creato l'ambiente musicale vabbè ma questo è un altro paio di maniche in ogni caso in questo libro il narratore non è uno solo si intervistano tutti i membri dei The Six ma non solo, si intervistano anche i tour manager, i manager, i discografici i tecnici che hanno collaborato con loro, i fotografi cioè è un libro molto corale non passiamo solo tramite Daisy Jones che ovviamente è quella che parla di più ed è quella che è più al centro della scena anche nei racconti degli altri ma per me il problema fondamentale è che era tutto raccontato tutto molto raccontato e mai mostrato che è un po' però la struttura che ha questo libro ma a me personalmente non ha colpito cioè io l'ho trovata proprio noiosa a un certo punto perché ripeto un conto è quando parla Keith Richards e ti racconta tutta la sua esperienza negli Stones e tu devi far silenzio e ok, essere allucinato tutto il tempo come è normale che sia ma questa volta secondo me è stato molto banalizzato tutta questa storia è stata molto poco incisiva non manca sicuramente la scena rock di LA negli anni 70 tutto ciò che ruota attorno proprio ciò che è una band e ciò che era una band in quel periodo storico che faceva rock ovviamente non mancano gli studi di registrazione i club, gli show, la band lo stare nella band e cosa implica stare in una band il casino, il disastro che hanno combinato il meglio e il peggio di quello che vuol dire stare in una band e poi Daisy ci racconta quanto sia difficile per lei scrivere i pezzi e farseli approvare o comunque volere essere lei stessa l'autrice dei propri testi e che tutti i discografici la sminuivano non volevano accettare i suoi testi che ho trovato una cosa ovviamente molto credibile molto, cioè tra l'altro molto veritiera tuttora il problema è che Daisy la vediamo raccontare quanto lei sia brava quanto lei voglia essere una rock star quanto lei scrive i propri testi eccetera ma della personalità di Daisy noi non cogliamo nulla perché Daisy sembra uno stereotipo e basta e lo è per tutto il libro anche perché lei continua a dire queste frasi per tutto il tempo io sono diversa io non sono come le altre ragazze io non sono solo una ragazza io non sono solo una musa I'm not a muse io sono una persona cioè lei dice costantemente queste cinque frasi per tutto il libro poi tendenzialmente chi dice io non sono come le altre ragazze è esattamente come le altre ragazze quindi eh e magari lei lo era sicuramente è stato un personaggio particolare sicuramente la sua storia è particolare ma tutto ciò è noiosissimo è noioso è noioso a morte anche perché fondamentalmente il personaggio di Daisy che è la nostra protagonista è un personaggio ricchissimo che viene da una famigliaggiata è annoiata e fondamentalmente si mette a fare musica perché è annoiata è viziata e cade dal pero perché per ottenere quello che vuole deve combattere deve sforzarsi deve rompere le scatole al prossimo wow che grande rivelazione cioè perché per la prima volta nella sua vita si trova a dover fare i conti con delle difficoltà cioè non con tutto quello che le viene servito solo perché lei apre bocca ecco io purtroppo è un atteggiamento che personalmente ritengo trovo molto irritante e diciamo che anche questa sua epifania della serie ah devo sbattermi per ottenere qualcosa l'ho trovata un'epifania un po' povera un po' cioè basilare proprio basic bitch che è quello che è Daisy e in più tutta la storia della band a un certo punto finirà per essere un vortice di droga e come tutta la droga rovina soprattutto Daisy ma anche gli altri membri della band originale proprio originalissimo nel mondo del rock io non so vi consiglio un po' di band delle quali vedere dei biopic delle quali leggere delle biografie non so Johnny Thunders non so gli Stooges non so gli Stones non so i Mothley Crue non so i Ramones cioè vado avanti a vita se inizio a fare l'elenco delle band poi i Pistols cioè basilarmente quindi fondamentalmente a me questo libro non è piaciuto cioè gli ho dato tre stelline perché non è neanche così pessimo cioè c'è un'idea di fondo è che a me l'idea di fondo ha annoiato fondamentalmente l'ho trovata proprio molto noiosa soprattutto perché se si rivolge ad un pubblico magari generalista che non segue molto la musica ok lo posso capire ci sta ma io che sono molto appassionata l'ho trovato noioso ripetitivo molto banale anche e dove manca del tutto lo sviluppo del personaggio che fondamentalmente potrebbe essere stata l'unica cosa che a me avrebbe dato quel qualcosa in più no nel leggere una storia di una band generica ecco diciamo chiamiamola così band X 70-80 cioè non ho capito forse anche perché doveva essere la storia della non so salita e della discesa di una band non è stato nemmeno quello cos'è stato non lo so però se volete vi consiglio un sacco di biografie se volete vi consiglio un sacco di biopic da vedere su band o che parlano di band o che parlano di musicisti perché il secondo volume che invece ho ascoltato in audiolibro è A Very Large Expanse Off Sea di Tyree Mafi che io ero curiosa di leggere perché Tyree Mafi come sapete ha scritto Shuttermy che per me non può che essere un incidente stradale perché ha scritto così male ed è così sbagliato in tante cose che non lo so non riesco a trovarci nulla di positivo cioè quando devo fare degli esempi negativi sui libri per ragazzi io prendo Shuttermy quando non prendo la Mass prendo Shuttermy o la Claire o poche altre ecco la Tyree Mafi secondo me in questo volume è molto migliorata io gli ho dato tre stelline e mezzo perché secondo me è molto migliorata a livello di scrittura e anche cioè non è che ha fatto il salto della vita però l'ho trovato molto più interessante trovo anche molto più corretto il modo di scrivere Contemporary Young Adult che ha Tyree Mafi rispetto a quello di scrivere Fantasy o quello che è Distopia o Urban Fantasy quello che è perché comunque è riuscita a trasmettere in questa storia che è la storia di Shireen che è una ragazza di origine musulmana che vive negli Stati Uniti d'America a cavallo dell'11 settembre un po' tutto quello che è stata la sua vita dopo l'attentata alle torri gemelle e come le sue difficoltà quotidiane siano diventate quasi intollerabili ecco perché per una ragazza di 16 anni vivere una discriminazione costante la paura di essere sempre sempre giudicati terroristi l'islamofobia che è diventata dilagante dopo l'11 settembre in America come lei diventi oggetto di scherno di bullismo come il fatto anche purtroppo di avere una famiglia che cambia continuamente stato e città per delle migliori condizioni economiche per cercare lavoro ovviamente la renda perennemente un'esclusa la rende sempre di più nemarginata comunque seguiamo Shirin e la sua famiglia e suo fratello particolarmente in questa nuova nuova vita il fatto di arrivare in una nuova città ricominciare la scuola e avere a che fare soprattutto con tantissime difficoltà quotidiane e riflessioni su ciò che vuole dire essere una ragazza musulmana che indossa l'ijab quindi già essendo molto riconoscibile chiaramente da chiunque la guardi una ragazza nuova è arrivata nella scuola come la ragazza nuova e che quindi deve affrontare tutta una serie di discriminazioni e quindi seguiamo Shirin che è una persona molto solitaria che ovviamente ha una famiglia che è anche abbastanza conservatrice quindi che da lei che è una ragazza si aspetta certi comportamenti diciamo che è una famiglia che non ha delle vedute ampissime sul ruolo che ha una ragazza di 16 anni insomma che vorrebbe che lei non uscisse da sola non facesse quello che fanno magari tante altre ragazze perché vede proprio Shirin in un certo modo mentre il fratello magari ha tante più libertà lei per la sua famiglia viene inquadrata in determinati ruoli entrambi sia il fratello che Shirin si avvicinano al breakdancing quindi iniziano a fare breakdance e Shirin scopre qualcosa che per lei è un veicolo verso il mondo esterno Shirin è una persona molto chiusa molto solitaria e che preferisce soffrire da sola per tutto il libro noi seguiamo e vediamo quotidianamente tutto ciò che la discrimina al modo in cui addirittura i professori la trattano addirittura tante persone cercano di inquadrarle in determinati stereotipi che magari lei da un lato sente appiccicati addosso e dall'altro lato però rifiuta perché non le appartengono non sono quello che la sua religione esprime e ho trovato molto molto brava la mafia in questo perché si vede che lei ha passato queste discriminazioni e le ha trasportate in un libro perché sono molto reali molto vere e giuro che anche ad ascoltarle mi davano abbastanza i brividi io spero che nessuna ragazza nel mondo debba mai passare attraverso questo tipo di discriminazioni peccato che non sia così è solo un mio grande sogno e quindi per me è stato molto toccante molto forte dal punto di vista emotivo la mafia nel restituire questo tipo di sensazione che comunque anche da lettore che assiste perché ovviamente cosa che non faceva in Shattermy ma che qua fa molto bene è quello di mostrare cioè buttarti dentro questo tipo di situazioni e quindi tu le vivi insieme a Shirin e giuro che ti fa sentire inerme come se tu non potessi fare niente perché ovviamente non puoi fare niente è un mondo fiction però che forse quando guardi fuori dalla finestra o quando vivi nel mondo reale ti rendi conto che probabilmente hai girato lo sguardo dall'altra parte avresti dovuto intervenire o se non so se ti rendi conto che certe cose avvengono è ingiusto che sia così davvero per me è stato molto toccante è stata molto brava la mafia in questo e secondo me la mafia riesce a creare Shirin in una maniera molto vera che comunque esprime ciò che lei è stata una persona isolata una persona che è molto chiusa in se stessa perché nessuno le ha mai dato abbastanza fiducia e nessuno l'ha trattata mai in un modo che la facesse sentire talmente al sicuro da poter esprimersi da poter condividere certe sensazioni che è un po' il risultato anche delle scelte di vita dei suoi genitori il fatto di spostarsi continuamente cambiare sempre scuola insomma qualcosa di estremamente destabilizzante soprattutto per qualcuno che è magari molto timido che non è molto estroverso io ho proprio trovato Shirin giusta come personaggio un personaggio molto vero e mi è piaciuta tantissimo e anche il fatto di trovare nella breakdance che è qualcosa di molto americano ecco tra l'altro che nasce ovviamente da una cultura emarginata come quella black e il fatto che si incontrino queste due culture in questo modo per me è stato estremamente giusto come scelta è stata una dinamica che mi è piaciuta molto devo dire che l'ho trovata molto più lucida in questo caso anche contemporanea in quello che racconta anche molto molto vicina al suo personaggio e ai suoi altri personaggi che ovviamente hanno tutti una personalità un po' diversa diciamo che le due cose che non mi hanno convinto di questo libro sono fondamentalmente la storia d'amore perché l'ho trovata da un lato molto poco autentica inizialmente cioè è un po' tutto ci incontriamo parliamo due volte ah alla fine tu mi piaci tantissimo sei bellissimo cioè sì magari è possibile però anche qua ho trovato un po' l'instalove non è cioè è più giustificato perché ci sono un po' di scene in più però comunque un instalove e a me non ha fatto impazzire però è stato anche un modo per la protagonista per aprirsi un po' di più e cercare un po' di restituire un altro lato al lettore l'altra cosa che a me non è piaciuta particolarmente è la gestione della trama perché è tutto molto lento molto flat ma perché noi dobbiamo seguire tutto ciò che passa per la testa di Shirin per farci raccontare attraverso ciò che vede ciò che ha vissuto la sua vita e poi però c'è a un certo punto il grande la grande rivelazione il grande cambiamento di tutta la storia e secondo me è molto repentino comunque ripeto secondo me la mafia qua ha fatto passi da gigante non è il libro capolavoro chiaramente ma quello che è il messaggio che voleva restituire ai suoi lettori ci è riuscita bene e secondo me molto potenti in alcune immagini in alcune scene io ho trovato la mafia cresciuta e quindi nonostante sia un'autrice che a me non piace posso dire che questo è un buon libro è un buon libro per ragazzi che secondo me tanti ragazzi dovrebbero leggere anche perché poi ha un tipo di linguaggio molto colloquiale si parla poi tramite messaggi che leggere in audiobook dei messaggi è una roba che non auguro a nessuno è fastidiosissimo però insomma tre stelline e mezzo tre stelline tre stelline e mezzo se le meritate secondo me è un buon volume ultimissimo audiobook che ho ascoltato perché non avevo grande attenzione è The Wedding Date che è un romance che non è proprio il mio genere e questo conferma per l'ennesima volta che io e il romance non abbiamo senso di esistere anche se vi devo dire che secondo me The Wedding Date che ne avevo sentito parlare bene da diverse youtuber che seguivo eccetera eccetera è comunque un buon romance è qualcosa di credibile è qualcosa che non mi ha fatto accapponare la pelle per le scene cringy anzi praticamente è una storia molto banale ci sono due personaggi che si incontrano casualmente al bar iniziano a flirtare e uno dei due propone all'altro di accompagnarla a un matrimonio perché non ha più perché si è appena mollato con la fidanzata e ha bisogno di una spalla non si sa perché accetta in realtà presa da un gesto folle perché lui è buono ovviamente però devo dire che la relazione tra i due l'ho trovata estremamente credibile e questo secondo me è qualcosa che mi ha stupito infatti è per quello che poi ho continuato ad ascoltarlo relazione tra l'altro che si basa anche su tantissimi discorsi che fanno i due che si scoprono a vicenda e che quindi dopo il matrimonio chiaramente si sentono attratti l'uno dall'altro dopo l'esperienza della settimana del matrimonio insomma tutto molto credibile ripeto che purtroppo il romance non è il mio genere quindi non dedicherò neanche tanto spazio a questo titolo però lavorare con questo mi ha fatto ridere un sacco di volte perché ascoltandolo è stato molto buffo e poi l'ho trovata una relazione molto credibile un buon esempio di relazione tra due persone che si scoprono si conoscono magari in una maniera un po' assurda però che parlano che cercano di capirsi a vicenda cercano davvero di costruire una relazione che abbia un senso non le boiate cui siamo abituati a leggere quindi insomma molto bene poi finalmente questo mese ho finito City of Brass di S.A. Chakraborti non trovo la sovra copertina ma voi mi perdonerete anche perché lo appoggerò subito visto che pesa un quintale allora in City of Brass ci troviamo al Cairo e seguiamo la nostra protagonista Nari che parte come la druncola di quelle che vive un po' di espedienti cercando ed essendo anche conosciuta come maga nel senso che riesce a fare dei trucchi viene pensata a una guaritrice eccetera eccetera pur di sbarcare il lunario e che nasconde quelle che sono davvero le sue capacità speciali Nari infatti riesce a riconoscere le malattie appena sente una persona appena tocca una persona e le può guarire ovviamente però cerca di tenerlo segreto e di essere percepita quasi come c'altrona un giorno però uno dei suoi trucchi va storto e si ritrova a invocare uno gin che è uno spirito del deserto e insieme a lui però scoprirà di essere inseguita da una serie di creature e scoprirà di avere una storia alle spalle che lei non ricorda che non conosce e che dovrà scoprire e l'unico modo per farlo è proprio insieme ad Arach il nostro gin andando alla città di Ottono ovvero The City of Brass che è una città mitiga che tutti non credono esista e invece scopriremo che è l'unico luogo dove Nari troverà delle risposte allora io ho trovato City of Brass davvero molto originare come libro intanto per l'ambientazione che sicuramente vabbè su di me l'ambientazione araba arabeggiante eccetera hanno una fascinazione particolare quindi ero già venduta però devo dire che in realtà tutta la trama di City of Brass che si sviluppa su due punti di vista principali che sono quello di Nari e poi di un altro personaggio che incontreremo dentro la città ovvero Ali per me è stato molto vincente anche proprio tutta la struttura è una narrazione che si sviluppa in maniera molto lenta perché intanto dobbiamo arrivare a capire un po' chi è Nari cosa fa perché tutto questo suo passato non se lo ricorda è nascosto e qual è la sua vita attuale e poi ci spostiamo quasi violentemente nella città di Ottone che è una città dove ci sono diversi conflitti interni dove emergono tantissime questioni etniche chiamiamole così nel senso che ci sono due fondamentalmente popoli che erano in conflitto e dove ora l'equilibrio è mantenuto per un pelle dove proprio nel sottofondo si muovono una serie infinita di intrighi e secondo me questa parte è molto più avvincente molto più movimentata e dinamica rispetto alla prima però devo dire che secondo me in generale anche proprio tutta la struttura le varie dinamiche e il modo in cui l'autrice o l'autore non ho ancora capito se è un uomo o una donna vabbè comunque ho trovato che l'abbia orchestrato tutto davvero in maniera molto magistrale la parte di ambientazione del sistema magico la parte che riguarda la politica i conflitti le varie proprio dinamiche tra il potere ciò che succede in sottofondo io ho trovato questa parte la più lucida e la più interessante di tutta questa serie adesso devo ovviamente leggere ancora seguito sul quale ripongo grandissime aspettative mentre ad esempio Nari secondo me è un personaggio strano un personaggio di cui conosciamo poco ma perché fondamentalmente ricostruiamo il suo personaggio man mano e perché Nari ha bisogno di costruirsi man mano il suo passato che non conosce ma la conosciamo come una ragazza che vive di espedienti è molto in gamba ma è anche molto chiusa è anche molto testarda non si fida di nessuno e questo lo vediamo sempre continuerà a non fidarsi mai di nessuno e questo le farà correre dei pericoli giganteschi l'ho trovato molto credibile è un personaggio pieno di difetti proprio per questa sua insicurezza che la porta a non fidarsi al correre dei rischi insomma ho trovato davvero molto brillante questa parte e anche il fatto che tutta l'ambientazione ci faccia davvero immergere in questa in questa mitologia complessissima e questo è il suo difetto principale che è un libro molto complesso dal punto di vista della storia della magia delle creature che non sempre vengono spiegate si inseriscono hanno una lenta evoluzione insomma questo è un po' forse il difetto più grosso che ha questo libro ma è un difetto perché ci mette tanto a riuscire a introdurti però la scrittura e anche il modo in cui noi seguiamo la storia è davvero molto immersiva e molto avvincente a mio parere anche gli altri personaggi tra cui Dara che è il nostro Jean secondo me sono dei personaggi che sono interessanti da un certo punto di vista però diciamo non tutti i personaggi al di fuori di Nare sono così memorabili si perdono molto verso la fine hanno dei comportamenti un po' strani a volte non sempre risultano brillanti però comunque riescono a rendere la storia molto avvincente la parte che a me è piaciuta meno è la parte del romance nel senso che se da un lato l'inizio è sicuramente un rapporto che si crea in maniera secondo me anche molto credibile a diversi punti in cui risulta proprio abusiva è una relazione proprio molto negativa e questo non mi ha fatto impazzire non sempre non sempre ma non sono una grande fan del romance di questo libro secondo me capisco che di a quel tocco in più di brividini a un sacco di lettori personalmente senza quella parte di ma creando una solida amicizia magari non so un rapporto di rispetto reciproco sarebbe stato più avvincente più forte ecco i punti ovviamente a favore di questo libro sono chiaramente quelli della diversità perché è quasi scontato parlare di diversità in un setting arabo cioè direi che è quasi stupido ma in generale mi è piaciuto come tutti questi personaggi che noi incontriamo cerchino tramite la loro storia di superare degli stereotipi legati al loro ruolo legati a quello che fanno legati a proprio magari anche alla loro discendenza legati al loro al loro percorso che hanno avuto fino a quel momento anche un percorso di redenzione proprio perché è forte come tema centrale un po' come nel Sognatore quello del razzismo quello della diversità che porta al conflitto perché il conflitto all'interno della città di Ottone è veramente percepibile è qualcosa che ha portato tutti a compiere gesti atroci è qualcosa che ha veramente creato una conflittualità ancora più aspra anche se nascosta nel tempo secondo me è gestita molto molto bene questa parte è la mia parte preferita e poi la questione degli stereotipi appunto come vi dicevo prima Nari ad esempio è una mezza umana e quindi viene considerata un'impura quindi già di per sé è quasi come se fosse un'emarginata ed è stata scacciata e bisogna capire perché è stata scacciata però da un lato possiede un potere che tutti vorrebbero e quindi è anche oggetto di desiderio viene vista anche con gli occhi predatori Lara ad esempio è un reietto che è stato emarginato per tutta la sua vita e Ali che è l'altro protagonista che noi seguiamo perché è l'altro punto di vista che incontriamo durante il racconto vorrebbe continuamente assecondare il padre vorrebbe ovviamente brillare i suoi occhi perché si sente sempre in difetto però dall'altro lato non riesce mai a rimanere indifferente alle ingiustizie alle quali assiste e alle atrocità che vengono commesse proprio davanti ai suoi occhi e quindi sono tutti personaggi che da un lato partono come se fossero tutti in difetto e che cercano quindi tramite la loro evoluzione e la loro storia di redimersi anche se non hanno nulla di cui redimersi comunque di migliorare di progredire di essere persone diverse e migliori insomma per me è una lettura molto interessante anche piena di difetti da un certo punto di vista soprattutto il ritmo cioè il ritmo è veramente molto lento inizialmente finché non arrivi dentro la storia vera e propria e diciamo che spesso ti trovi a voler abbandonare la questione ma se resistete se riuscite a arrivare dentro troverete una storia che invece è molto avvincente è anche un libro complesso perché ha una mitologia complessa una struttura che richiede tanta tanta attenzione perché si parla di numerosissime creature di una serie di una mitologia che è quella araba ovviamente quella del deserto che è una mitologia complessa però io trovo che questo sicuramente sarà un libro che piacerà tantissimo a chi già ha letto Rebel di Owen Hamilton Rebel of the Sands e che però secondo me comunque ha tanti punti a favore è molto originale insomma io gli ho dato quattro stelline perché secondo me comunque a parte i difetti che ha risulta molto originale ha vettato ad aria fresca ecco e io volevo leggere una cosa del genere e ora arriviamo a un titolo che devo fare delle premesse ovvero la maga tessitrice di Elena Paoli allora io e Elena ci conosciamo tramite youtube e booktube abbiamo fatto anche un evento insieme poco tempo fa quindi ci conosciamo non siamo papeciccia però insomma ci conosciamo però io ero molto curiosa di leggere il primo capitolo della sua nuova serie lei ovviamente è ben consapevole che io dirò tutto ciò che penso su questo libro e io non avrò un occhio di riguardo giusto perché è Elena anche se vi dico una cosa secondo me questo è un buonissimo punto di partenza l'ho trovato pieno di spunti interessanti ma ora vi racconto la maga tessitrice allora fondamentalmente noi seguiamo la nostra protagonista Aspasia che è reduce da un momento molto traumatico della sua vita che non riesce a superare e non ha superato appieno che si ritroverà invischiata in un'avventura che la capapulterà nell'altrove in un altro mondo in un mondo che ovviamente ha molto poco a che fare con quella che è la sua realtà normale di tutti i giorni è un mondo molto originale è un mondo che è intrecciato con la nostra realtà ma che sembra davvero molto diverso e in questo caso ci troviamo in un mondo che a mio parere è il risultato molto originale da certi punti di vista riprende tutta la mitologia romana adesso lo appoggio perché mi sono rotta le balli di tenere in mano ed è un libro molto originale proprio perché c'è questa ambientazione di ispirazione romana e tutta la mitologia che c'è dietro che riprende tantissimo del mito riprende tantissimo ovviamente della tradizione latina latina e greca anzi direi però soprattutto latina e che cosa mi è piaciuta perché secondo me questo è un libro con degli ottimi spunti anzi partiamo dalle cose negative perché partiamo da quelle secondo me le cose che forse risulteranno più fumose sono la questione delle dinamiche e parte della trama nel senso che io ho trovato la trama dalla metà in poi ecco dalla metà in poi molto più originale molto più vivida molto più interessante e molto più appassionante per il lettore la prima metà un po' perché ci deve introdurre al mondo un po' perché seguiamo aspasia che è molto statica ma dopo ci arriviamo alla questione di aspasia e quindi è molto lento come libro entrare in questo libro è un processo molto lento e spesso i pensieri di abbandono si moltiplicano nella testa se riuscite a resistere a continuare in realtà vi sorprenderà molto secondo me perché la seconda metà del libro è nettamente migliore della prima ma proprio dieci spanne sopra perché è molto più avvincente ci sono tanti personaggi che ci vengono introdotti e dei quali seguiamo la storia l'aspetto negativo secondo me è in questo libro che fondamentalmente alcune scene alcune dinamiche che avvengono presentano proprio dei problemi di editing e penso sia lampante ed evidente nel senso che ci sono delle scene che accadono un po' quasi fuori luogo a volte o forse dove ci sarebbe stato bisogno di elaborarle di più perché da un lato sono un po' confuse da un lato forse non è chiaro per il lettore ciò che la scena dovrebbe rappresentare ciò che voleva essere il messaggio di quell'azione di quella scena di quel dialogo tra i personaggi faccio esempi molto ampi ovviamente evito di fare spoiler però cercate di seguirmi diciamo che a volte Elena non riesce ad esprimere perfettamente il pathos che racchiude una scena o quello che questa scena vuole rappresentare quello che questa dinamica vuole rappresentare per l'emotività dei personaggi a volte risulta molto sottotono molto piatta quando in realtà avrebbe dovuto essere molto più intensa oppure esattamente il contrario è troppo intensa quando in realtà la reazione è praticamente minima a volte proprio contraddice anche i legami che si vengono a creare tra i personaggi o le varie dinamiche che si creano tra i personaggi non per forza amorosi sto parlando però fondamentalmente c'è un po' di confusione spesso o non c'è una distribuzione di alcune scene in modo che abbiano dei pesi molto più diversi rispetto a quelli che hanno questo per me è un difetto perché si vede che con un lavoro di editing di un certo tipo questa cosa sarebbe stata già risolta sono cose che saltano abbastanza all'occhio detto ciò invece l'altra cosa che a me è piaciuta però capisco che non possa piacere a tutti è la scrittura Elena secondo me scrive benissimo ha una scrittura molto immaginifica molto vivida molto intensa è una scrittura ricca però molto elegante secondo me lei per essere giovanissima scrive meglio di tante altre persone che io abbia mai letto in italiano davvero sono molto contenta di averla trovata così è una scrittura molto macchinosa quindi non è una scrittura così fluida quindi non per tutti risulterà scorrevole risulterà piacevole di intrattenimento però secondo me è una scrittura molto alta c'è un livello di scrittura che per me è super lodevole e pregevole a tratti ricorda un po' Laini Taylor a volte non ha sempre un ritmo calzante spesso si sofferma su cose che distolgono molto l'attenzione e soprattutto non fa procedere la trama quando a volte avrebbe dovuto procedere però detto ciò a me è piaciuta molto come tipo di scrittura cioè so che la scrittura è un qualcosa di soggettivo quindi uno la percepisce come una scrittura che apprezza una scrittura che non apprezza a me è piaciuta è una scrittura correttissima in italiano ha delle immagini molto belle a volte secondo me c'entra proprio delle immagini molto molto insignificative a volte non è così potente come potrebbe essere anche qua però insomma c'è margine di miglioramento vi dicevo secondo me è molto interessante tutta l'ambientazione e la mitologia che ci porta un po' a scoprire anche i personaggi legato a questo altrove abbiamo fondamentalmente quattro personaggi più aracne ecco che seguiamo insomma questi personaggi di cui uno ha una storia quasi a sé completamente staccata o apparentemente staccata che è Ezius che è una storia particolare e sembra quasi sfilacciata da tutto il resto e poi seguiamo i tre protagonisti fondamentalmente che sono Aspasia Septimus e Adrianus allora io sugli altri due non mi soffermerò perché forse non ha senso visto che li incontrerete molto avanti nella lettura però Aspasia parliamo del personaggio di Aspasia perché a me è piaciuto molto io ho trovato Aspasia estremamente credibile perché Aspasia ha subito un forte trauma iniziale di cui noi a cui noi non assistiamo però percepiamo gli ecchi perché comunque è molto chiaro ciò che le è successo anche se non è esplicito ha subito una violenza e lei passa tutto il resto della nariazione a cercare di reagire a questa violenza pur non essendo una persona diciamo molto estroversa soprattutto nella difficoltà estrema che è quella del superamento del trauma superare un trauma come una violenza è qualcosa che nessuno penso potrebbe fare schioccando le dita lei è già una persona con molte difficoltà si ritrova chiusa e stretta in questo tipo di dinamica e alla quale non sa come reagire finché poi non le capita di passare all'altrove e mi soffermo su questo punto perché ho sentito un sacco di recensioni dove dicevano che viene romanticizzato lo stupro che viene banalizzato e robe di questo tipo sono stronzate perché non è vero cioè io non so mi sto scaldando perché veramente penso che banalizzare lo stupro sia un'altra cosa noi assistiamo la mancata spettacolarizzazione di uno stupro io ringrazio per questa cosa perché non abbiamo bisogno che ce lo mettano davanti con i titoli in sovrimpressione non è solo così che si rende la forza di una scena anzi mi è piaciuto come Elena abbia preso Aspasia e l'abbia fatta vivere in un modo dove è difficile reagire perché non è così facile non è così banale e non è solo vedendo lo stupro che noi ne percepiamo le conseguenze infatti Aspasia è immobilizzata è traumatizzata non ha gli strumenti per reagire non sa come fare è una persona chiusa ed è una persona che mano a mano deve riuscire a riprendersi in mano la propria vita in questo caso è ancora più in difficoltà perché viene proiettata in un universo parallelo senza rivivere quel momento perché comunque abbiamo sempre degli accenni abbiamo sempre un richiamo a quello noi comunque viviamo le conseguenze di una violenza e personalmente l'ho trovato molto elegante molto giusto personalmente penso che chiunque abbia vissuto una violenza vedendo le difficoltà di Aspasia ci si può ritrovare perché non è è l'immobilismo ciò che dopo ti terrorizza ciò che da un lato una persona può reagire fingendo che non sia mai esistito quel momento o non riuscendo a muoversi nella propria vita perché non si hanno più le certezze che si avevano prima perché quello che è successo è qualcosa che incombe sulla tua vita per sempre è qualcosa che ti insegue ed è questo che noi vediamo con Aspasia è qualcosa che la insegue qualcosa che non la lascia mai qualcosa di cui tutti noi lettori ne percepiamo la gravità la pesantezza e infatti ho trovato molto offensive le recensioni che hanno detto viene banalizzato e ridicolizzato proprio non lo so studiate ok detto ciò torniamo invece al tema del libro che cosa mi è piaciuto di Aspasia Aspasia effettivamente potrebbe comunque per alcuni tratti sembrare la classica protagonista young adult in realtà Aspasia come anche tanti altri personaggi molto stereotipati ci dà un'evoluzione proprio di questo di questi suoi schemi no cioè Aspasia che ha tutte le ragioni per essere immobile terrorizzata ed essere molto silenziosa nel corso della narrazione deve trovare il coraggio di smuoversi deve trovare il coraggio di evolversi e di andare avanti e l'ho trovato molto molto credibile è un personaggio molto forte anche gli altri due Septimus e Adrianus che forse Adrianus è un po' più stereotype rispetto a Septimus però insomma comunque entrambi rappresentano qualcosa che piano piano si evolve e piano piano si distacca da quello che ci viene presentato inizialmente che può essere molto stereotipo per andare verso nuovi lidi per andare verso un'evoluzione diversa e mi è piaciuta questa scelta mi è piaciuto anche proprio prendere qualcosa che poteva essere molto banale e riuscire a piano piano a definire dei ruoli un po' diversi e quindi niente a me è piaciuto la maga tessitrice nonostante i milioni di difetti che ha perché lo trovo molto originale soprattutto la trama dell'altrove e soprattutto mi è piaciuto anche la dualità tra Aspasia e Aracne che insomma dovrete incontrare in seguito però vediamo un Aracne che è brillante è spietata insomma è un freccia rossa che arriva direttamente senza guardare in faccia a nessuno invece Aspasia che dovrebbe essere il suo alter ego eppure è ovvio che non regge il confronto perché non lo può reggere una persona come Aspasia in questa fase e io sono molto infatti curiosa di vedere cosa succederà poi perché voglio vedere come Aspasia riuscirà in qualche modo a contrapporsi in maniera molto più forte ad Aracne ad essere effettivamente un alter ego credibile e sono molto fiduciosa quindi niente io gli ho dato tre stelline perché secondo me ha un sacco di spunti positivi anche un milione di difetti ma ve lo consiglio perché insomma secondo me è qualcosa di interessante da leggere poi arriviamo al disastro vero io qualche tempo fa da Nat Galley avevo ricevuto i Romanov di Nadine Brandes allora io non do mai una stellina cioè è raro che io dia una stellina perché comunque io anche lo sforzo di essere riusciti a pubblicarlo glielo do ma questo se l'è meritata tutta pieno è un libro che mi ha fatto arrabbiare l'ho dovuto cioè basta ok è un historical fantasy quindi un fantasy storico di rivisitazione della storia dei Romanov in questo caso anzi che doveva essere un retelling di Anastasia ok partiamo dal presupposto io sono una grandissima appassionata sia di letteratura che di storia russa quindi leggendo questo brobrio volevo urlare volevo proprio urlare rimandare tutti a studiare mi sentivo maestrina volevo proprio che cioè ah cioè qui in questo libro non è stato fatto alcun tipo di ricerca c'è una rivisitazione storica pazzesca per legarsi al tema del trasformare tutta la storia in un fantasy una boiata incredibile scusatemi di solito sono molto rispettosa quando faccio le recensioni ma questo mi ha fatto arrabbiare ok ed è chiaro che tutto ciò nasce per pompare life attorno al retelling di Anastasia che ci sarebbe cioè fatelo vi prego qualcuno lo faccio io sono contenta se qualcuno me lo fa ma non così cioè fate delle ricerche aprite dei libri di storia studiate soprattutto studiatevi una biografia di Nicola secondo e della sua famiglia del movimento bolshevico e di ciò che è successo in Russia a cavallo del 17 18 vi prego perché quella è una roba imbarazzante poi neanche solo 17 18 bisogna studiare almeno gli ultimi 15 anni 20 anni di regno poi in realtà da metà 800 per capire come si è arrivati al 17 ma comunque diciamo che se già l'incidente stradale c'era stato con il modo in cui viene presentata la famiglia Romanov come i buoni quelli che avevano fatto tutto bene e i cattivi bolshevichi perché dovevano creare questa sorta di mondo fantasy vago approssimativo scritto veramente con i gomiti non era bastato la mancata ricerca mancava anche un setting fantasy ridicolo no? cioè perché non avevamo già fatto male la prima parte facciamo male la seconda guardate bene non sto dicendo che i bolshevichi erano i buoni eh cioè è lungo da me però neanche che Nicola II e la sua famiglia e la sua monarchia fossero qualcosa di così estremamente buono e caramelloso e pieno di unicorni e di arcobaleni perché c'era la gente che moriva di fame e se erano tutti incazzati come delle pantere è perché la monarchia non ha fatto assolutamente nulla per migliorare le condizioni di vita del popolo io scusatemi ma questo ci tengo a sottolinearlo scusatemi te la do scusate di nuovo perché questa recensione cioè sarà un rant totale comunque in pratica questo libro di cosa parla perché sto parlando a dieci minuti e nessuno ha capito di cosa dice il libro sto libro racconta innanzitutto una prima parte che sembra molto più fiction storica insomma narrativa storica dove noi assistiamo fondamentalmente alla fase della rivoluzione in cui la famiglia reale viene portata vicino a Ekaterinburg e poi viene messa nella dacia dove veniva tenuta prigioniera poi fondamentalmente arrivati in questa dacia scopriamo che in realtà ci troviamo in un mondo fantasy che quindi i bolshevichi e tutte le altre sono creature e che la buona Anastasia deve combattere tutti allora io vi dico avrei perdonato quest'idea cioè ve lo giuro l'avrei perdonata nonostante sia ridicolo solo a dirla ad alta voce però va bene ci può stare una roba ci sta ma la seconda parte è addirittura peggiore della prima che la prima ci sentiamo raccontare tutto il tempo quanto questa famiglia reale fosse buona e come avesse fatto tanto e come in fondo fosse ingiusto tutto ciò che gli è successo che sicuramente è stato ingiusto non è mai una soluzione la soluzione dell'eliminazione totale e la seconda parte ve lo giuro che è persino peggio della prima la parte fantasy che fino a quel momento non era impercettibile sembrava solo un grande alone inspiegabile c'è la seconda parte persino peggio della prima in più c'è il romance a un certo punto che ve lo giuro è il peggior romance che io abbia letto in anni e io ho letto quelli della Sarah J. Maas ho letto quelli della Cassandra Clare ho letto quelli della Tyra e Mafi ma di che cosa stiamo parlando no vabbè il sistema magico di tutta questa roba è una cosa che è stata partorita probabilmente non so in stato vegetativo perché se no non si spiega ma basta ho già dedicato troppo tempo a sto libro mi ho dato una stellina perché è tutto sbagliato dall'inizio alla fine è sbagliata la parte storica è sbagliata la parte fantasy il sistema magico il romance non è avvincente arrivare poi alla metà è una una sforzo incredibile non lo so riponevo moltissime aspettative perché io voglio qualcosa che rivisiti la storia russa un retelling che rivisiti una cosa del genere a me farebbe un sacco piacere io sono una grande appassionata in generale di storia russa mi piacerebbe moltissimo se lo facessero con Caterina la grande ma cosa che non faranno mai e vabbè in ogni caso no non leggetelo personalmente ve lo sconsiglio poi volete leggerlo e farvi del male dopo questo io mi dovevo riprendere e detto ciò ho letto Individutopia del quale vi ho parlato nei 5 libri brevi sulla distopia che vi linko qua sopra non so dove visto che ve ne ho già parlato lì vi rimando a quel video però Individutopia di Josh Weldon a me è piaciuto tantissimo è un libro molto breve divertentissimo che parla di un mondo dove fondamentalmente gli esseri umani sono diventati degli individui che ragionano solo su se stessi e non hanno alcun contatto sociale che è un po' quello verso il quale sta andando la nostra società nessuno parla con nessuno nessuno si aiuta tra nessuno è stata brillante l'idea una satira sociale della nostra società che secondo me è molto molto brillante e quindi ve la consiglio mi hanno detto mi hanno detto che è uscito anche in italiano una casa editrice coraggiosissima l'ha pubblicato brava le mie followers che sono sempre attente sveglissime e quindi insomma c'è anche in italiano se lo volete leggere ma vi rimando al video sulla distopia così potete approfondire quello che è Individutopia dopo Individutopia ho letto Aurora Rising TJ Christophe e Amy Kaufman grazie alla Penguin che me ne ha mandato una copia in digitale allora per me Aurora Rising senza infamia senza lode è un libro molto carino molto divertente al quale io ho dato tre stelline e mezzo ma niente di che cioè mi dispiace dirlo perché io a Jay voglio benissimo un patatone anche la collaborazione con Amy Kaufman la trovo sempre molto brillante almeno a me il lumine è piaciuto moltissimo quindi insomma pensavo che sarebbe andato tutto bene e infatti in Aurora Rising ci sono tanti elementi positivi noi fondamentalmente seguiamo l'equipaggio in realtà i cadetti che poi diventeranno l'equipaggio sulla stazione Aurora in una galaxy far far away insomma in un futuro prossimo in un futuro molto molto lontano e durante una missione viene trovata Auri ovvero Aurora che è una ragazza che è stata trovata dopo quasi 200 anni intrappolata nella sua vecchia navicella in stato criogenico non mi ricordo come si dice però non so quello avete capito e lei ovviamente si ricorda di tutto ciò che è stato il suo passato capiscono che lei è stata vittima di una cospirazione molto più ampia e pian piano devono smascherare questa cospirazione è un libro estremamente avventuroso perché infatti seguiamo la nostra crew che si va un po' a infilare in un guaio dopo l'altro che decide di affrontare una di quelle imprese che è meglio non fare ovviamente sono tutti giovanissimi quindi per questo un po' per questa struttura richiama molto sei di corvi come richiama anche ovviamente guardiani della galassia perché siamo su questa navicella sono tutti fuori di testa ogni personaggio è un po' un mondo a sé anche se noi fondamentalmente ne seguiamo quattro perché gli altri seguiamo in maniera molto marginale e infatti anche questo che a me non ha fatto impazzire non riesce a gestirli tutti la trama perché è ovvio perché non c'è spazio e forse sarebbero dovuti essere solamente un po' più marginali non hanno aggiunto nulla ai loro capitoli questi personaggi tenuti un po' in disparte secondo me tutti i personaggi sono abbastanza credibili perché sono molto definiti tra di loro hanno tutti i propri conflitti interni hanno il proprio modo di fare eccetera c'è un po' il golden boy che è il nostro protagonista poi c'è Auri che Corina non è colpa sua è vittima di una sfiga dopo l'altra poi c'è Scarlett che è un personaggio molto esuberante Kat che è la tossa del gruppo che ha mille conflitti anche con Tyler che era il nostro golden boy c'è Cal che è il nostro Fee poi c'è Finian e ci sono Finian e Zilla che sono quelli che proprio sono marginalizzati moltissimo nella storia eccetera secondo me è un libro estremamente divertente che si legge veramente con grande piacere e io infatti l'ho letto tutto d'un sorso ma 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 becca forse di allora una ve la dico ed è spoiler però ragazzi cioè io non ne posso più di leggere la parola mate in qualsiasi libro lo trovo un concetto pigro lo trovo un concetto irrispettoso e lo trovo una roba per cui non capisco perché la gente si emozioni per la questione di mate cioè non siamo degli animali non c'è niente di romantico nel mating bond io non riesco giuro mi fa uscire di testa fate conto che gli stavo per dare quattro stelline ho letto mate un voto in meno cioè no non esiste scusate questo è un mio limite a voi piace il mate vi piacerà tantissimo sta roba a me ha fatto proprio cascare le palle l'altro problema forse è la mancanza di grande originalità del libro nel senso che prende molti spunti da tanto altro quindi risulta tutto molto sentito anche proprio delle frasi secondo me risultano proprio barbugo ci sono tantissime cose che sono un tributo a sei di corvi ci sono tante altre cose che sono tributo ad altre cose non so pecca un po' di mancanza di originalità nonostante ciò è un libro davvero molto piacevole perché la trama è molto divertente è molto fluida scorrevole procediamo man mano non ci fossilizziamo mai ecco rispetto a Lifelike dove io ho fatto molta fatica perché la trama e in generale la struttura con cui viene presentata la trama per me è atroce ho fatto molta fatica poi c'è questo cambio repentino che il lettore fatica a percepire per me invece qua è assolutamente orchestrato molto meglio c'è un cliffhanger finale abbastanza inaspettato tutto giusto pecca forse di mancanza di originalità e quello è un po' un difetto che mi dispiace aver riscontrato più o vabbè la parola meta mi ha uccisa proprio giuro ho gli ultimi due libri del mese di aprile yes così finalmente finiamo questo wrap up eterno il penultimo è Every Heart A Doorway Every Heart A Doorway di Sheenan McGuire allora Eleanor's Home for Wayward Children è questa sorta di casa questo istituto speciale un po' la Miss Peregrine dove tutti i genitori disperati che non sanno davvero più come aiutare i propri figli in maniera positiva che in maniera molto negativa portano i bambini i ragazzi che non riescono a superare un trauma hanno una difficoltà che li blocca nella propria vita e tutte queste difficoltà nascono perché tutti questi i bambini sono caduti in un altro mondo sono capitati in un'altra realtà dove hanno avuto un'esperienza molto forte molto pesante per loro e che non riescono a superare e che non riescono in questo momento a tornare nella loro realtà vera e ad essere felici e ora che sono tornati nella realtà nella nostra realtà ne stanno subendo le conseguenze sono sotto shock sono depressi a volte sono agitati a volte sono aggressivi e tutti vogliono continuare a trovare quel portale che li ha portati nel mondo che per loro viene percepito come vero ovvero la fantasia qualcosa di fantastico e ogni bambino che arriva a Wayward nella casa di Eleanor ha vissuto una crisi personale e sta vivendo una crisi personale e questo rientro dal mondo fantastico quindi questo rientro nel mondo reale ha solo acuito il problema e la casa di Eleanor è l'unica speranza che hanno questi bambini per poter vivere una vita felice perché tutti quei bambini che invece non riescono ad arrivare alla casa di Eleanor purtroppo avranno molte difficoltà nella loro età adulta e noi seguiamo per prima Nancy che è la prima bambina che vediamo ad arrivare alla casa di Eleanor e Nancy è capitata in un mondo che ricorda tantissimo il mito greco e gli inferi di Ade e mentre Nancy non riesce assolutamente a reintegrarsi nel mondo che sta vivendo i suoi genitori pensano che siano passati due minuti invece per Nancy è stata un'esperienza molto più lunga e arrivando Nancy ci racconta un po' ciò che avviene all'interno della casa l'incontro con gli altri ospiti di Eleanor l'incontro con tutti gli altri bambini e le loro storie e i loro mondi e tutti questi bambini hanno esperienze simili pur avendo attraversato questi portali in maniera molto diversa tutti i bambini hanno qualcosa in comune tutti hanno un'esperienza traumatica che li accomuna anche se ovviamente ognuno ha dei motivi diversi dall'altro e ovviamente questo paragone con i mondi che noi vediamo nella storia di Every Heart a Doorway è ovviamente qualcosa che loro non riescono a superare che loro non riescono ad accettare che solamente nel mondo fantastico possono vivere a pieno possono sentirsi liberi di esprimere quello che stanno vivendo allora ve lo volevo raccontare perché è molto complesso parlare di questo libro perché la trama è complessa in più ci si infila una roba tipo gialla che rovina tutto secondo me allora partiamo dal presupposto a me questo libro ha fatto molto arrabbiare perché è una delle occasioni più sprecate che io abbia letto l'idea è bellissima e la McGuire riesce a scrivere la parte soprattutto emotiva del trauma che i bambini elaborano vivono e a un certo punto sono costretti ad accettare e a capire forse anche che non avevano del tutto chiaro lucido nella loro testa ho trovato queste parti molto intense molto realistiche e molto belle anche questa metafora del passare in un altro mondo perché è l'unico mondo nel quale noi possiamo essere liberi nel quale chiunque viva una difficoltà in questo caso noi ne incontriamo tante sono tutte persone che si sono sempre sentite disadattate rifiutate emarginate tutti per motivi ben diversi chi soffre di sindrome post-traumatica di altre malattie mentali chi è depresso invece ha difficoltà nel vivere nell'accettare nel poter esprimere il proprio orientamento sessuale e chi invece combatte con la propria identità di genere quindi con la transessualità e proprio l'allegoria del fatto di arrivare alla casa di Eleanor è una metafora molto potente per poter dire che la casa non è forse sempre quella dove nasci ma è anche quella dove ti accoglie una famiglia che non avessi mai pensato è qualcosa dove ti accoglie chi è pronto ad accoglierti a capirti ad ascoltarti mentre fuori dalla casa di Eleanor le difficoltà non vengono ascoltate non vengono capite vengono minimizzate qui tutti si sentono accettati e accolti e perché questo libro mi ha fatto arrabbiare moltissimo perché se nella parte che deve esprimere tutto ciò che io vi ho raccontato fino adesso Shannon McGuire è bravissima tutto il resto è un disastro cioè lo stile è disastroso è il procedere della trama è terrificante cioè io vi sto raccontando la parte migliore perché è quello che secondo me è la parte più potente di tutto questo libro ma tutto il resto è veramente un pasticcio qualcosa che non ha una forma solida e in più che viene infarcito addirittura di una trama gialla che secondo me una trama crime che secondo me non aveva alcuna ragione di esistere perché quello che vi sto raccontando secondo me poteva già essere perfettamente il libro raccontare come arrivare alla casa di Eleanor sia un modo per superare il trauma per trovare uno spazio dove si viene ascoltati accettati e dove tutti si aiutano a vicenda proprio per superare il trauma dove tutti lo viviamo con i protagonisti attraverso questo loro viaggio nel mondo fantastico e invece no dovevamo subirci delle cose inutili in più veramente il procedere della trama e lo stile della Maguire a me hanno creato un sacco di difficoltà proprio è stato difficilissimo arrivare alla fine del libro lo continuavo a fare perché veramente alcuni personaggi mi hanno colpito tantissimo cioè la parte di Cade cade non so come si dica che parla di transessualità mi ha aperta in due mi stavo molto commuovendo e in generale tutte le storie di questi ragazzi proprio perché davvero sono qualcosa che secondo me è difficile argomentare parlare proprio nella vita reale superare il disturbo post-traumatico l'ansia la depressione la malattia mentale superare qualcosa che non riusciamo a gestire capire la nostra identità di genere capire il nostro orientamento sessuale sono tutte cose difficili soprattutto quando sei piccoli e quando la tua famiglia non vuole ascoltarti e per questo è potente il problema è che questo libro spreca questa grande occasione che ha nel parlare solo di questo e nel riuscire a mettere insieme l'idea che potesse creare davvero una casa dove tutti potessero arrivare e in più anche questa bellissima metafora dell'oltrepassare la porta in un mondo fantastico in un mondo dove tu puoi vivere quello che nella tua realtà non puoi e puoi buttarlo via perché è scritto male è scritto veramente in maniera terribile e mi dispiace tanto perché perde tempo rimugina su cose inutili poi ci infila questa trama misteri che questo crime che avviene e tu dici ma chi se ne frega io voglio ascoltare le storie dei ragazzi e riesce a rovinare a non essere trascinante in qualcosa che aveva un potenziale secondo me pazzesco perché secondo me sia noi che siamo più grandi e che abbiamo sofferto un trauma abbastanza evidente sia i bambini i ragazzi che potevano approcciarsi a certe storie e immedesimarsi in questi ragazzi non lo faranno perché non hanno l'occasione di farlo ed è stata sprecata da Sheena McGuire mi dispiace moltissimo giuro lo dico con dolore ne avevamo parlato tempo fa con la Elena di Miss Nerely ovviamente perché lei l'aveva letto a me è arrivato da recensire giuro sono addolorata dal fatto che questo libro abbia dei punti da 5 stelline perché la parte emotiva è talmente intensa e talmente immersiva che davvero mi viene rabbia nel pensare che ho letto certe cose e come sia stato buttato via il resto che non si merita più di una stellina e mezzo o due stelline cioè c'è questo sbilanciamento totale il problema è che la parte emotiva è molto ridotta rispetto a tutto il resto è molto marginale e mi fa arrabbiare è un libro che mi ha fatto molto arrabbiare basta gli ho dato due stelline e mezzo perché di più non se ne merita perché fa male troppo fa quasi male proprio leggere un'occasione così sprecata ma ora andiamo avanti finalmente sono arrivata all'ultimo libro che in questo caso è città e reale di Cristina Marconi io ringrazio il progetto teen space che me l'ha mandata per una cosa che succede su instagram fra poco vabbè poi ve ne parlerò o la vedrete comunque ho letto questo che è uno dei finalisti del premio strega e io sono super contenta di averlo fatto nonostante io volessi leggere altri due titoli e che recupererò perché mi sono molto gasata dopo aver letto città e reale ho trovato questo libro molto trascinante cioè io l'ho letto in un sorso davvero non riuscivo ad andare a dormire perché comunque questo libro che racconta fondamentalmente dell'immigrazione che una ragazza come tante fa una ragazza italiana come tante fa verso l'Inghilterra una ragazza che arriva a Londra e che si scontra con un po' le difficoltà tra le aspettative ciò che erano le sue idee in partenza ciò che pensava di dover dimostrare e ciò che si trova a vivere ciò che si trova di fronte anche una relazione che mette in luce proprio tutte le difficoltà culturali e lo scontro culturale che avviene tra due paesi che hanno un approccio molto diverso a determinate cose e niente non vado avanti nella trama perché fondamentalmente la trama è una storia di immigrazione fondamentalmente è una storia di una persona che si muove e va verso Londra e ciò che rappresenta la città è una città che ha tantissimi volti perché per Alina inizialmente significa il lavoro significa trovare un nuovo posto di lavoro la carriera ma anche significa fare amicizia solo con le persone inglesi che sono legate alla sua relazione e poi a un certo punto significa cambiare volto la città perché la sua vita cambia e la sua città quella che aveva conosciuto diventa una città dove frequenta solo altri italiani dove frequenta persone che hanno molto più a che fare con lei probabilmente ma che hanno molto poco a che fare con Londra perché sono tutte persone di passaggio tutte persone che non sanno se si stabiliranno lì e per me il modo di raccontare della Marconi questa sorta di realtà che tantissimi si trovano a vivere o che in tanti come me hanno contemplato a lungo e che alla fine hanno scelto di rimanere comunque il tarlo non se ne va mai è una storia che a me ha colpito molto perché forse parlava più di me che a me che per voi che ascoltate questa recensione non vuol dire assolutamente nulla però l'ho trovata molto potente il modo in cui la Marconi con questo stile molto scorrevole molto fluido dove i pensieri si fondono con le azioni in maniera molto molto spontanea c'è una ricerca di non so di un'urgenza una necessità di esprimere ciò che si è razionalizzato tanto sicuramente ma che è comunque qualcosa di molto spontaneo e trovo che la Marconi sia riuscita molto bene a renderlo in questa storia che è davvero una storia un po' generazionale perché quanti di noi o sono all'estero o ci sono andati o vorrebbero tentare e io parlo forse di me che ho 30 anni e che quindi questi dubbi me li ponevo 12 13 anni fa 10 anni fa e tuttora me li pongo ovviamente però ci sono tanti giovani che tuttora si chiedono continuamente se abbia senso rimanere o andare che è un po' il grande dubbio di Alina un po' quello però non c'è solo questo dubbio c'è anche il dubbio su che cosa voglia dire vivere una città dove in fondo tu puoi vedere tantissimi lati dove in base a dove sei con chi sei tutto cambia tutto si trasforma nulla è mai lo stesso e un po' anche le sensazioni che vive Alina sono sensazioni che non so nelle quali io mi sono molto immedesimate mi sono ritrovata tante quindi insomma trovo questo debutto della Marconi molto molto brillante questo è il suo primo libro che ho scoperto leggendolo e facendo un po' di indagini la sua scrittura è una scrittura che da un lato secondo me è abbastanza moderna per parlare di qualcosa di moderno ovviamente di qualcosa di attuale contemporaneo trovo che non sempre sia perfetta e lucidissima anzi la sua scrittura spesso inciampa perché da un lato è decisa e urgente proprio si vede che ha bisogno di esprimere e vomitare certe cose anche se è estremamente ponderata dall'altro però a volte risulta un po' ridondante cioè risulta un po' altissonante quando mantiene invece quasi sempre un linguaggio molto colloquiale l'uso del linguaggio non è sempre fluido perché vuole evitare ripetizioni e si vede che utilizza degli espedienti che non sempre sono proprio brillanti non sempre risultano perfetti ecco infatti spesso adotta dei termini desueti cosa che nella vita reale non farebbe mai il personaggio che ha sempre parlato in un modo molto diretto e alcune scene risultano un po' artificiose anche perché poi ci troviamo non in una situazione diciamo da emigrato italiano a Londra base ma siamo comunque in un ambiente abbastanza alto abbastanza agiato e quindi insomma parla di tante cose che secondo me sono molto universali però dall'altro lato siamo sempre in un certo livello benestante che non rappresenta sicuramente la maggioranza di chi si trasferisce a Londra anche proprio tante dinamiche un po' forzate un po' artificiose ecco infatti c'è questa ambientazione molto patinata quasi sempre che forse non esprime a pieno quello che sia la realtà dominante ecco Alina è molto fortunata un gran culo però insomma trovo che forse anche queste cose che emergono siano anche le altissime aspettative che questo libro ovviamente si trascina con sé perché è un libro che parla di qualcosa di molto contemporaneo e dovrebbe poter essere un romanzo quasi generazionale di tutte le persone che hanno vissuto questa crisi vado o non vado se vado cosa trovo ora che sono qui cosa sono chi sono dove devo stare che cos'è la città per me un luogo dove rimango luogo dove sto un po' poi parto insomma in questo secondo me riesce bene e per questo a me è piaciuto tantissimo il libro della Marconi gli ho dato quattro stelline sono molto curiosa di leggere altri finalisti dello strega e quindi niente io vi lascio con questo niente siamo arrivati incredibilmente alla fine verrà un wrap up di ere geologiche però vabbè voi siete abituati abbiate solo una grande pazienza grazie per essere arrivati in fondo se ce l'avete fatta niente io come sempre vi ringrazio per aver trascorso un po' di tempo insieme a me spero che i titoli che vi ho raccontato e sbrodolato siano risultati interessanti se qualcuno l'avete letto avete voglia di commentarlo insieme ci sentiamo giù nei commenti ovviamente oppure se avete letto qualcosa di bellissimo nel mese di aprile fatemelo sapere mi raccomando tanto la mia TBR si allunga ogni giorno di più e niente io come sempre vi ringrazio vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao